E approfittiamo di questi momenti prima dell'inizio dei comizi per fare qualche intervista ai candidati. Iniziamo con Diego Rufo che è uno dei candidati della lista capeggiata da Enzo Baggini. Com'è andata questa campagna elettorale? Credo molto bene, abbiamo avuto una buona risposta dalla gente, vedo che c'è aria di cambiamento e quindi siamo più che soddisfatti anche per l'esperienza che da parte di tutti noi è la prima volta. Quindi siamo ottimisti anche nel risultato. Diciamo che in questi sono rimasti ormai pochi giorni, come li vivrai queste ultime ore? In queste ultime ore penso che la gente abbia visto tutto quello che noi abbiamo fatto, abbiamo detto, quindi c'è bisogno di riflessione e quindi lascerò a loro pensare e poi decidere nell'urna per il 26. Siamo con un altro dei candidati della lista di Enzo Baggini, Michele Cerruti. Come è andata questa campagna elettorale? Allora, praticamente le sensazioni sono positive. Abbiamo girato per le campagne, per le case dei cittadini di Albanella e abbiamo avuto delle risposte positive, siamo stati colti bene e le sensazioni che abbiamo avuto, a mio parere, chiaramente sono sempre sensazioni relative, sono state delle sensazioni che tendono al cambiamento. Poi si vedrà il 27 pomeriggio, si tireranno le conclusioni fuori. E nell'attesa che inizi questa finale, questo match finale, diciamo, dei comizi conclusivi, è arrivato anche il primo che parlerà dal palco questa sera, da Albanella, dalla piazza di Albanella. Siamo infatti con il candidato a sindaco Enzo Baggini, della lista Siamo Albanella. Enzo, com'è andata questa campagna elettorale? E' andata bene, è andata molto bene. Siamo cresciuti nel corso della campagna, io e la mia lista, ma devo dire anche grazie a Renato e a Fabio che insieme con me hanno puntato molto sulla qualità della proposta e sul limitare le polemiche inutili, che significa che c'è in tutti quanti noi una coscienza che il momento per Albanella è importante, quindi guardiamo le cose concrete. Pochi minuti e salirai su quel palco. Come pensi di convincere la popolazione e i cittadini a votare per la tua lista? Non mi illudo di convincerli stasera. Stiamo lavorando da un mese con la campagna elettorale, ma da diversi mesi ancora prima per cercare l'appoggio dei cittadini. Le nostre argomentazioni le abbiamo esposte, stasera le ribadiamo, ma stasera ci sarà soprattutto un richiamo ai valori fondanti, a quelli che ci hanno spinto ad intraprendere questa strada. Grazie. Abbiamo qui con noi Claudio D'Angelo. Claudio, anche a te la stessa domanda. Come è andata questa campagna elettorale? Ciao, buonasera a tutti. La campagna elettorale questa va definita come frizzante, frizzante e briosa. È andata bene. Sono felice e contento. Andrà benissimo. Come trascorrerai queste ultime ore concitate alla ricerca dei voti? Sereno, molto sereno. Molto sereno. E con noi anche, se si accomoda, abbiamo Teresa Guadagno, che è una delle donne in corsa per questa campagna elettorale che ormai siamo agli sgoccioli. Teresa, anche per te la prima volta, quindi la prima volta che ti affacci in politica, come sono andati questi giorni di campagna elettorale? Buonasera a tutti. Sono andati certamente bene. Comunque il riscontro è stato molto positivo. Le persone hanno risposto molto bene, diciamo, alle nostre richieste. Poi staremo a vedere, chiaramente. Noi siamo molto positivi, speriamo bene. Le persone effettivamente vogliono cambiare. Qual è l'emozione più grande che tu hai vissuto in queste ore? L'attesa, l'attesa e l'ansia per lunedì, insomma. Poi è tutto da vedere. Poi si vedrà. E con noi anche Consuelo, Consuelo Quaglia, che è un altro candidato della lista di Enzo Baggini. Consuelo, questa campagna elettorale come l'hai vissuta? È stata molto emozionante. Comunque buonasera a tutti, saluto tutti i concittadini. Niente, è stata emozionante. È abbastanza coincisa perché ho trovato buone prospettive in casa delle persone. Niente di particolare. Tutti si sono comportati bene. Chi diceva che stava con uno, chi diceva che stava con l'altro, però è andata bene. Al di là di quello che vincerà, quindi di quella che sarà la lista vincente, qual è la tua aspettativa? La mia aspettativa è che vinca il migliore e nello stesso tempo che si faccia qualcosa per il paese. E chiamiamo qui con noi Marzia Lettieri, è un'altra donna della lista di Baggino e una giovane avvocato. Marzia, anche tu come Teresa per la prima volta ti sei affacciata alla politica. Come hai vissuto questi giorni? Beh, faticosi, però molto belli. Sicuramente è un'esperienza che resterà, in un modo o nell'altro. Un'esperienza che tutti dovrebbero fare, probabilmente, perché poi la politica è di tutti, non è solo di alcune persone. Quindi molto bella, veramente. È una bella esperienza. E ancora, abbiamo anche un altro candidato, che è Giancarlo Fedone. Giancarlo, anche tu un nuovo, un nuovo, diciamo, per la prima volta ti affacci alla politica. Come hai vissuto questa campagna elettorale a fianco di Enzo Paggino? È stata una bella esperienza, lo è ancora. Speriamo di uscirne vincitori. Comunque vada, è stata un'esperienza positiva. E qual è stata l'emozione più grande che hai vissuto in questi giorni? Ma l'emozione è quella di parlare con le persone, vedere che sono interessati, ti ascoltano, io ascoltare loro. È un buon rapporto questo con la gente. Scoprire che ci sono belle persone ad Albanella è davvero una sensazione positiva. Quindi diciamo che è stata anche l'occasione per conoscere un po' di più la tua comunità? Certamente sì. Certamente sì. E poi, sì, è un'occasione che ha rafforzato un legame col territorio. E quindi posso dire di uscirne arricchito da questa esperienza. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Fa pochissimi minuti inizierà la diretta. A dopo. Michele Cesudi, Lucia Guarini, Teresa Guadagno, Consuelo Guaglia, Marzia Lettieri, Diego Rufo, Gabriella De Rosa, Michele Gammarano, Carmen Croce, Giancarlo Fedone, Carmine Frunzo, Claudio D'Angelo. Ed ora un applauso più forte per il nostro candidato sindaco Enzo Baggini. Segui per dire che il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie per essere venuti qui da noi. E' il primo dei comizi di chiusura. E che sia il primo, io me lo voglio leggere come un segnale augurale, perché l'importante è arrivare primi. Secondi non conta. Ma l'importante non è che noi si arrivi primi. L'importante è che arrivi prima Albanella. Arrivi per primo Arrivi per primo La lista che ha voluto mettere nel proprio simbolo Le piante di olivo Quelle alle quali tutti quanti noi, in un modo o nell'altro Siamo legati Deve arrivare prima La lista che ha indicato la propria identità Noi siamo Albanella E siccome siamo Albanella Normalmente non si fanno parlare i candidati Nei comizi di chiusura Ma un grazie Un grazie a voi Che ci avete ascoltato per un mese intero Un grazie a voi E' doveroso da parte di tutti i miei candidati E ad uno ad uno questo grazie ve lo diranno adesso Sì, buonasera sono Claudio D'Angelo Grazie, grazie del calore Niente Sono emozionato Il mio grazie è ringraziarvi a voi Per l'accoglienza Quando ho chiesto l'appoggio alla lista L'appoggio a me stesso E nulla Questo è E ho ricevuto Molto affetto entrando nelle vostre case Grazie, grazie mille Buonasera a tutti Sono Carmine Frunzo Vi faccio un ringraziamento di cuore Per la pazienza che avete avuto Ospitandoci nelle vostre case Grazie Grazie a tutti Sono Giancarlo Fedone Allora che dirvi Noi vi ringraziamo Per averci accolto nelle vostre case E grazie a voi Abbiamo trovato coraggio A dare la nostra disponibilità A tentare di cambiare questo paese In senso positivo Grazie Buonasera Carmen Croce Alle mie spalle C'è la torre con l'orologio Ha rappresentato per me Parte della mia infanzia E credo Come per tanti altri di voi Sarei felice Se ritornassi a funzionare Non solo l'orologio La sirena Ma tutto il resto Ringrazio coloro Che ci sosterranno Buonasera Sono Michele Gammarano E grazie a tutti Buonasera Sono Gabriella De Rosa Dico prima di tutto Che ormai questo via vai Nelle case è finito Quindi massimo domani E colgo l'occasione Per ringraziare tutti quanti Di aver spalancato Le vostre porte Per averci onorato Di averci accolto Nelle vostre case Per averci ascoltato E soprattutto Grazie a voi Per aver detto Ciò che pensate Che sia buono O che condividevano Le nostre idee Comunque ci ha aiutato A crescere E forse a capire Certamente meglio Il nostro paese Comunque ci auguriamo Veramente di cambiarlo Il nostro paese Grazie Siamo Albanella Buonasera Grazie Grazie Perché insieme Noi onoriamo Questa piazza stasera Vi ringrazio Io voglio ringraziare Soprattutto i ragazzi I ragazzi che ci hanno Sostenuto ogni giorno A fianco A fianco alla nostra lista Perché questi ragazzi Hanno una grande coscienza Tutti hanno questa grande coscienza Perché tutti abbiamo bisogno Di avere Buoni esempi Della politica Siamo Albanella Siamo Albanella Noi vogliamo dare Il buon esempio Come ci è stato dato Come lo hanno ricevuto I nostri genitori I nostri nonni Perché questa piazza È stata fatta Da persone Che avevano avuto Quel buon esempio Da un primo cittadino Dal primo cittadino Del dopo quella Raffaele Pignatario Che tutti noi ricordiamo Ancora oggi Grazie E siamo Albanella Buonasera a tutti Grazie per essere intervenuti stasera Grazie per avermi accolta Nelle vostre case Per averci accolto tutti Perché voi ci avete dato Una grande forza La forza di andare avanti Di credere in questo progetto Ringrazio i giovani I nostri amici Che prima di tutto Si sono spesi per noi Io sono qui Soprattutto grazie anche a loro Che mi hanno dato la forza E l'energia Di intraprendere questa avventura Grazie a tutti E ricordate Siamo Albanella Grazie Buonasera a tutti Io sono Consuelo Ringrazio tutti E un'ultima cosa Votateci Grazie Buonasera a tutti Io sono Teresa Guadagno Che dire Sono onorata Di rappresentarvi Sono orgogliosa Di essere una vostra concittadina E vi ringrazio Fin d'ora Per il sostegno Che ci darete Buonasera Buonasera Sono Lucia Guarini Vi devo innanzitutto Ringraziare Perché mi avete dato Una bellissima opportunità Di conoscere le vostre case Di parlare con voi Pensavo di essere io Al servizio vostro Invece mi avete dato Un arricchimento profondo Sia del territorio E sia delle vostre Delle vostre persone Vi ringrazio molto E votateci Buonasera Sono Michela Cerruti Voglio ringraziarvi Per essere stati presenti In ogni comizio E di averci accolti Nelle vostre case Noi abbiamo messo Faccia Coraggio E tempo E passione Voi dovete Metterci Il voto Votate Siamo a Banella Lista numero tre Grazie Ai miei candidati Stasera ho tirato Un brutto scherzo Perché Loro non sapevano Di dover parlare E gli ho detto Se volete amministrare Questo paese Dovete essere pronti Ad affrontare Anche l'imprevisto Stasera è stato Un imprevisto E credo che L'abbiano affrontato In maniera eccellente Perché lo spirito È questo Io stasera Chiudendo qui Ad Albanella Dove l'avevamo iniziata La nostra campagna elettorale Non voglio ripercorrere Né tantomeno ricordare Le proposte Che abbiamo Nel corso Di queste settimane Illustrate a voi Negli incontri pubblici O direttamente Nelle vostre case Rischieremo di essere Ripetitivi Sicuramente Sicuramente Abbiamo avuto Tempo e modo Per convincervi Se ci darete Il vostro consenso Avremo fatto Un buon lavoro Se non ce lo darete Avremo sbagliato noi Perché non saremmo Stati capaci Di spiegare bene Le nostre ragioni La cosa peggiore Da sconfitto È quella di Accusare Di non essere Stato capito Io credo che È più facile O meglio È più difficile Spiegare le proprie ragioni Per cui Se non ci riesci Il danno Lo fai tu A te stesso Per cui Quei segnali Che arrivano Di Elettori Mediocri Se scelgono Politici Mediocri Sono falsi Gli elettori Devono essere messi Nella condizione Migliore Di poter scegliere Devono avere Soprattutto Una opportunità Di scelta Ed è questo Il senso vero Profondo Della nostra proposta Amministrativa Proposta amministrativa Che non è nata Un mese fa Io personalmente Ci sto lavorando Da anni E non certo Pensando ad una mia Candidatura Chi mi conosce Lo sa bene Qual è stato L'iter Di questo Di questo Progetto Ci stiamo Lavorando Da mesi Sicuramente Perché abbiamo Fatto Essenzialmente Una Riflessione Albanella È cresciuta Negli ultimi Vent'anni È cresciuta O Arretrata Dipende dai punti Di vista Secondo noi È arretrata Perché probabilmente Amministrata Da una Da un gruppo Da una classe dirigente Sostanzialmente Che è rimasta Sostanzialmente Uguale Ed immutata Non tanto Negli uomini Qualche Rimaneggiamento È stato fatto Sia pure Secondo me Solo di facciata Ma soprattutto Nei metodi E nella ricerca Delle soluzioni Io ho sentito Tutti i comizi Dei miei Avversari politici Preferisco Chiamarli per nome Perché sono Loro amico Renato e Fabio E li ho sentiti Parlare al passato Hanno usato L'imperfetto O il passato prossimo Alcuno addirittura Il passato remoto Nei nostri incontri Il tempo più utilizzato È invece il futuro Perché un paese Che non riesce A progettarli Il proprio futuro Un paese Che non ha Un'idea Di come poter Andare avanti Che non riesce Ad immaginare Se stesso Proiettato Da qui A dieci anni È un paese Che potrà avere Belle strade E non le abbiamo Che potrà avere Scuole efficienti E non le abbiamo Che potrà avere Una casa comunale Ospitale E sicuramente Non l'abbiamo Ma è un paese Senza speranza È un paese Che guarda All'indietro E noi vorremmo Guardare invece avanti E una delle Note Principali Una delle nostre Cifre Identificative È stata L'attenzione Particolare Verso Verso i giovani E non vuole essere Facile retorica Perché il problema Di Albanella Soprattutto Di Albanella Paese Della parte alta Del nostro paese Sono i giovani I giovani Che vanno via I giovani Che hanno difficoltà Una volta acquisite I titoli Accademici O professionalità A ritornare Perché mancano Le occasioni Certo L'ente comunale Da solo Non fa Non può fare I poteri Di intervento Sono sicuramente Limitati Sarebbe opportuno Pensare A politiche Di integrazione Territoriale Anche con altri Enti Sarebbe soprattutto Opportuno Pensare A politiche Di indirizzamento Dire ai nostri Giovani Rivolgetevi Presso gli sportelli Comunali Perché lì Ci saranno Ci saranno Professionisti Ci saranno Gente specializzata Che vi potrà dire Quali sono Le nuove tendenze Soprattutto parlo Della Imprenditoria Giovanile Vi potrà dire Quali Quali fondi Andare a reperire In che modo Vi potrà seguire Almeno per un biennio In maniera del tutto Gratuita E poi lasciarvi andare Potrà mettere A vostra disposizione Le tante Le tante Strutture Immobiliari Noi abbiamo Un patrimonio Il comune di Albarella Un bel patrimonio Immobiliare Largamente Sottoutilizzato Ieri sera Eravamo a San Cesareo E lì È rivenuta fuori Per l'ennesima volta L'eterna storia Dei capannoni Ersac Degli edifici Della riforma Non utilizzati Incontenzioso Di nostra proprietà Forse Non di nostra proprietà Beh questa è la quarta O quinta campagna elettorale Che seguo Ad Albanella È la quarta Quinta volta Che sento Sollevare il problema È la quarta Quinta volta Che sento Di possibili soluzioni E dopo la quarta Quinta volta Io mi sarei aspettato Che queste soluzioni Fossero state Fossero state Trovate Probabilmente Se ne Ce se ne interessa Nel momento In cui si cerca Il consenso E non invece Nell'arco Dei cinque anni Perché il lavoro Vero Incomincia Almeno per noi Quando vinceremo Queste elezioni Incomincerà il giorno 27 Forse il 28 Magari il 27 Ce lo prendiamo Di riposo Non sono solo I capannoni Ersac Io stasera Nell'immaginare Nello stirare La scaletta Del mio intervento Avevo pensato Di fare Di darvi le spalle E di guardare Il vecchio municipio E di stare zitto Almeno per un minuto Perché si dice Che la politica E parole 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 Beh io per un minuto Avrei voluto Stare in silenzio Ed ascoltare Le parole Di quel silenzio Perché le parole Di quel silenzio Parlano Di una Di una casa comunale Inutilizzata Da 14 anni Parlano Di un recupero Di questa piazza Che doveva Che è uno splendido Catino naturale Che doveva rappresentare Centro di aggregazione Per la nostra comunità E che ha sollevato Tante polemiche Avrei specato Un minuto Del mio tempo A disposizione Stasera abbiamo I tempi Contingentati Come si dice E avrei Probabilmente Fatto un servizio Non tanto Alla mia Propaganda Di parte Ma Alla vostra Capacità Di riflessione Non è possibile Avere una casa comunale Inutilizzata Da 18 anni 14 anni Non è possibile Avere strutture Di proprietà Dell'ente Inutilizzate Laddove Continuiamo a pagare L'affitto Per ospitare I nostri uffici comunali Non è possibile Soprattutto Sentire Che forse Abbiamo fatto bene A pagare Questi affitti Perché abbiamo Risparmiato Sull'eventuale mutuo Che potevamo contrarre Per Ristrutturare La nostra casa La nostra casa comunale Beh Credo che è una soluzione Comune a tutti quanti noi Nelle nostre case Nelle vostre case Normalmente si dice Beh stai a pagare L'affitto Ti paghi la rata Due il mutuo A noi ci hanno spiegato Che non conveniva Ma noi a questo Ci crediamo Ci crediamo Perché Ci abbiamo sempre creduto Sono vent'anni Che ci crediamo Noi siamo Quelli Ai quali Sono stati fatte promesse Sono stati date garanzie Ma non personali Intendiamoci Circa Il futuro Lo sviluppo Di questo paese Noi a queste promesse A queste garanzie Ci abbiamo creduto Una volta Due volte Tre volte Quattro volte La domanda la faccio io Adesso a voi Albanella Vent'anni fa E Albanella Oggi Dobbiamo continuare Ancora a crederci A quelle promesse O ce le vogliamo Andare a prendere Noi Quelle promesse O vogliamo andare A vedere Effettivamente Se potevano essere mantenute O meno Quelle promesse Perché può darsi pure Che non potevano Essere mantenute Ma noi Non ci meritavamo Che ci venissero fatte Quelle promesse Questa è la differenza Sostanziale Fra la lista numero tre Siamo Albanella E le altre due I due miei amici Renato e Fabio Loro hanno avuto Sia pure con ruoli diversi E in tempi diversi Modo e opportunità Per mantenere Quelle promesse Che loro avevano fatto E che loro Sempre in tempi E con ruoli diversi Non hanno saputo mantenere Chiediamo a voi Il consenso Di poter avere Quel ruolo Quell'opportunità E quel tempo Per poter realizzare Le speranze Che ci vengono Da un passato Lontano E che oggi Dobbiamo necessariamente Concretizzare E lo dobbiamo fare Necessariamente Non per noi Ma per il nostro paese Perché se continuiamo così Non andiamo molto Molto in lungo C'è la crisi I trasferimenti statali Sono stati falcidiati Le difficoltà ci sono Beh io mi chiedo Ci sono solo per Albania Albanella probabilmente Perché se poi confronto Albanella Che era centro importante Nei nostri territori Un paio di decenni fa E la confronto con Situazioni Similari E per popolazione E per popolazione E per localizzazione Anzi forse Più sfavorite Rispetto a noi Penso per esempio Che so A Trentinaro O A Giungano Paesi molto più piccoli Di noi Paesi che hanno saputo Riscoprire Una Un'identità Uno Uno spirito Di comunità E di collettività Tali Che li ha portati A raggiungere Almeno un livello Di decoro urbano Decente Ma la crisi Si è fermata A Ponte Barizzo O continuava Anche Ancora sopra Fino a Giungano E fino a Trentinare E dico solo di questo Per non parlare Di Rocca d'Aspide Allora probabilmente Le condizioni date Sono difficili Per tutti Ma come arrivavano In altri territori Sarebbero dovuti Arrivare anche da noi I famosi fondi E i famosi fondi Sono arrivati Non tutti quelli Che ci avevano Che ci avevano detti Ma in larga parte Sono arrivati Mi sono fatto un calcolo Di quei famosi 10 milioni Per Albanella Che avevano tappezzato Sotto forma di manifesto Le nostre strade Alcuni anni fa Forse ne abbiamo spesi Solo 6 A questi 6 Aggiungo tutti quelli Che sono stati spesi Dalle amministrazioni IOSC Che stiamo puntualmente Pagando Perché erano mutui Contratti Con la Cassa Depositi E Prestiti Arriviamo a qualcosa Come intorno a 14 milioni di euro Voi ce li vedete 14 milioni di euro Nel territorio di Albanella Io non ce li vedo Però c'eravamo illusi Facciamo una bella area Di insediamento industriale La famosa zona PIP La zona industriale Noi alcuni anni fa Dicevamo Non è il caso Perché a pochi chilometri Da dove la vogliamo insediare La zona industriale di Capaccio È già fallita Ed è lì a dimostrarlo Ma noi eravamo quelli Che non volevano Far crescere il paese Eravamo quelli Che non volevano Gli investimenti Che venissero investitori Esterni al paese Noi dicevamo Semplicemente Stralciamo una parte Di quella zona Facciamola Incominciamo da Aree più piccole Incominciamo innanzitutto A far trasferire Le nostre attività Produttive In quell'area E beh adesso che Sono arrivate le prime notizie Sul FUC Con un candore virginale Quasi commovente Ci viene detto Che quell'area È stata ridimensionata E vuol dire Che avevamo ragione noi Ma avevamo ragione noi Anche quando Dicevamo che Una delle possibilità Di risparmi Nella gestione Del nostro ente Poteva essere Quella di mettere insieme Servizi e funzioni Con altri comuni Noi lo dicevamo Dieci anni fa Adesso scopro Che è quella Una delle possibili Soluzioni E allora Se il suggerimento C'era già Dieci anni fa E non solo per questo Ma anche per altre Per altri tipi Di intervento Se una parte Del paese Sapeva queste cose Anche i nostri Amministratori Dovevano Saperle Probabilmente Non le ritenevano Convenienti Non le ritenevano Opportune Non voglio assolutamente Pensare ad errori Fatti in mala fede Però E qui è Il Il punto critico È un problema Di credibilità Sentirsi dire Oggi A distanza Di dieci anni Quelle stesse Soluzioni Che noi Avevamo indicato In precedenza E sentirsi Affermare Che quelle Sono le soluzioni Giuste Ma sentirselo fare Da quelle persone Che hanno avuto Tempi Modi Ed opportunità Per realizzarle Ne mina Molto La credibilità E siccome La credibilità È alla base Del necessario Rapporto di fiducia Che c'è fra Amministrati E amministratori Noi vi invitiamo Questa sera A non rinnovare Quel patto Di fiducia Perché quel patto Di fiducia Quel patto Di fiducia È stato È stato Tradito Non mi interessa Conoscere I colpevoli Noi facciamo politica Non facciamo Indagini giudiziarie E poi La ricerca Del colpevole Non politicamente Parlando Non porta Da nessuna parte Noi A noi interessa Capire I perché Albanella Che nel 94 Era in un buon momento Perché non è Non è riuscita A prendere Il volo In quel momento Certo Ci sono state Le difficoltà Successive Però noi Nel 94 Eravamo ancora Un tessuto Economico In pieno sviluppo Probabilmente È mancata Un'azione Di indirizzo Della nostra Classe Imprenditoriale Eravamo Un paese Soprattutto Nella parte Bassa Che stava Crescendo Probabilmente È mancato Uno strumento Di Di regolarizzazione Urbanistica Ogni tanto Ce lo sventolava Ce lo sventolavano Sotto gli occhi Io ne ricordo Almeno due Di campagne elettorali Con la promessa Dell'imminente PRG Probabilmente Sono mancati Una serie Di atti Di indirizzo Che potevano Indirizzare Lo sviluppo Del nostro paese In una certa direzione Piuttosto che In un'altra Ma quella direzione Lungo la quale Si è avviato Si è fermata Noi siamo Un paese Che sta in mezzo Ad un guado Non riusciamo Fortunatamente Non andiamo indietro Me lo auguro Almeno Ma non riusciamo Neanche ad andare avanti Non riusciamo A cogliere Appieno Tutte le potenzialità E territoriali E personali Le risorse Le cosiddette Risorse umane Di cui pure È ricco Il nostro paese Vedete Io non parlo Né di scuole Né di Né di strade Questi sono problemi Che conosciamo tutti quanti Li viviamo quotidianamente Sulla nostra pelle È inutile Star qui A ricordarveli Direi soltanto Che in comuni normali Questi problemi Li risolvono gli uffici Di questi problemi La politica Non se ne dovrebbe occupare Perché la politica Cioè gli amministratori Ai quali voi date Il vostro consenso Hanno il dovere Di pensare Ma di pensare A fare di sé Legni A progettare Il nostro paese E a questi amministratori Forse con intento punitivo Non lo so Qualcuno propone Sicuramente con spirito demagogico E populistico Qualcuno propone Di togliere le indennità Di carica Io non lo so Se è giusto Non è giusto Sicuramente in momenti Di difficoltà E finanziaria Come queste Soprattutto così diffusi È un bel gesto Di solidarietà Ma io più che preoccuparmi Di quanto togliere Ad un amministratore Mi preoccuperei Di quanto Farlo lavorare Quell'amministratore E se dovesse lavorare E se dovesse lavorare bene E l'indennità Io non dico di toglierla Gli dico di aumentarla Però ne dovrebbe portare I risultati A fine mandato Ogni anno Individuiamoli Gli obiettivi Da raggiungere E li misuriamo Tutti quanti insieme Ci sono gli strumenti Per poterlo fare Io lo sto dicendo Oramai Da tre Da tre sere consecutive A me piacerebbe E se vinciamo noi Anzi Quando vinceremo noi Sicuramente lo faremo A me piacerebbe Che accanto Al bilancio economico Il nostro comune Così come fanno Tante altre comunità Redigesse anche un bilancio sociale Un bilancio sociale Significa che Il comune Insieme con i propri cittadini Stabilisce degli obiettivi Da raggiungere Che non sono necessariamente Quelli Di quanti chilometri Di asfalto O di quanti O di quanti chilometri Di condotta idrica Dover riparare In un anno Ma oltre a questi Anche Indicatori Della qualità Della vita L'inquinamento Delle acque Il numero Di Di tossicodipendenti Il numero Di situazioni Di disagio Che sono state Affrontate E risolte Perché Chi si propone Secondo me Di amministrare Una Una comunità Lo deve fare In maniera globale A 360 gradi E la comunità Non è solo Strade e scuole È anche Strade e scuole Ma è anche Misurare Il tasso Di Io lo chiamo Di felicità Forse la parola È esagerata Della propria Popolazione In questi In questi giorni Meglio ancora Scusate Le idee Si Si accavallano E quindi È difficile Andare a trovare Un modo Di poter Di poterle Collegare Perché Gli argomenti Sono tanti Sono stato Sempre Rimproverato Di essere Molto lungo Questa sera I tempi Ripeto Sono contingentati Quindi devo Cercare Di sintetizzare Al massimo E Le idee Si affollano Pensavo Parlavo prima Del bilancio Sociale Ma Dicevo anche Cerchiamo di farli Lavorare un po' Di più I nostri Consiglieri Comunali È uno dei modi Per farli Lavorare un po' Di più O in maggioranza O in minoranza È quello di creare Delle commissioni Consigliari Dove Gli atti Della giunta Vengono esaminati Ma vengono esaminati In maniera preventiva Questo modo Obblicherebbe La giunta A fornire Le carte Perché fare Opposizione Avendo le carte 12 ore Prima dei consigli Comunali È un po' Difficile Qualcuno Lo sa Allora Andare Nella sala Consigliare Speriamo A più presto Qui dentro Significa Andarsi A confrontare Andare A proporre Soluzioni Diverse Magari Ma per lo stesso Per lo stesso Problema Oggi Attualmente I nostri organi Rappresentativi Lavorano In maniera In maniera Teatrale Le sedute Dei consigli Comunali A parte Quelle Che vengono Fatte Il Il sabato 14 agosto Alle ore 12 Sono Semplicemente Una rappresentazione Teatrale Di decisioni Prese in altri Posti E non In quel Consesso Di decisioni Prese Magari All'insaputa Dei nostri Consiglieri Perché magari A loro Non sono state Fornite Tutte le carte Allora io direi Invece di fare Dieci consigli Comunali In un anno Cerchiamo Di far lavorare Il consiglio Comunale Attraverso Le commissioni Ma in maniera Seria Tutto questo Rafforza Rafforza Quello spirito Di fiducia Che doveva Che deve Necessariamente Eserci Fra amministrati E amministratori E all'interno Della stessa Amministrazione Non può esserci Divisione C'è Contrapposizione Sicuramente Ma non può Eserci Divisione I bambini Sono Vivaci Stasera Ma siamo Albanella E anche Un altro Tipo Di proposta Ed è la proposta Della Diversità La diversità Intesa anche come Rapporto con la Cittadinanza Parlavo prima con un amico E parlavamo di Partecipazione Popolare E di condivisione Delle decisioni Questi sono Questi sono due principi Che sono alla base Non solo della nostra Azione politica O della nostra proposta Ma del mio personale Concetto di politica E non sono parole Vuote Lo volete un esempio Di mancanza Di condivisione Delle decisioni È l'ecomostro Di Santa Sofia Una cosa Bruttissima Non ci voglio Ritornare Per carità Di patria Ma io Credo Che L'offesa Maggiore Rappresentata Da quei pilastri Non è tanto La presenza Esteticamente Discutibile Di quei pilastri Ma è soprattutto Il fatto Che per erigere Quei pilastri Si è dovuto Abbattere Notto tempo Una testimonianza Importante Della memoria Collettiva Della nostra memoria Quel famoso Casone Morra E beh Io dico Decidevamo Dovevamo deciderlo Insieme Se abbatterlo O meno Non il progetto Che ne è venuto dopo Ma prendere Quel pezzo Di storia Del paese E abbatterlo In maniera Io direi Addirittura Proditoria È stata una violenza Che è stata esercitata Non tanto Al paesaggio Lì magari I nostri architetti Saranno bravi E sistemeranno Le cose Ma è stata fatta Soprattutto Alla nostra Memoria collettiva Ed è questo senso Di collettività E di comunità Che deve essere ripreso In questi giorni Abbiamo svolto Una campagna Elettorale Tutto sommato Tutto sommato Da un certo punto di vista Noioso Forse Perché è mancato Lo spunto polemico Eccessivo Per fortuna Non abbiamo dato Lo spettacolo E ripeto ancora Per fortuna Perché Le campagne elettorali Non sono spettacoli Gli spettacoli Sono quelli Ai quali si paga Il biglietto Per assistere Sono momenti Di riflessione Di crescita Con l'intera cittadinanza E' vero Che non è mancato Qualche Attacco Anche personale Alcuni Fanno parte Del gioco Ci stanno Sono divertenti Altri invece E preciso Non sono venuti Da nessuno Dei due Miei amici Fabio E Renato Ma evidentemente Da qualche Da qualche Buon tempone Chi ha messo in giro E mi dispiace Abusare per un secondo Della vostra pazienza Ma è un chiarimento Che devo Non tanto a chi Ha messo in giro Queste cose Ma soprattutto a voi Perché Se la moglie di Cesare Deve essere Onesta Lo deve anche Sembrare onesta E una di queste voci Era quella Che la mia Personale candidatura Era legato Ad un mio Interessamento Alle opere Di metanizzazione Io ho smentito Questa cosa Ho fatto Un'intervista pubblica Abbiamo spiegato Ai nostri amici Abbiamo cercato Di Diffondere Il più possibile La versione vera Di questa cosa E' doveroso Però Nel comizio finale Della nostra Campagna elettorale Fare questo passaggio Voi sapete Benissimo Qual è la mia professione Sono ovviamente Interessato Alla distribuzione Attualmente Del GPL Potrei esserlo A quello del metano Ma in maniera Del tutto privata Se le nostre aziende Dovessero Mai fornire Il metano Lo farebbero Attraverso Dei negozi Di natura Dei contratti Di natura privata Laddove Le nostre aziende Verrebbero Nelle vostre case Semplicemente A proporre Un contratto Di fornitura Senza avere La necessità Perché non è previsto Da nessuna Normativa Di una concessione O di una Autorizzazione Comunale Quella concessione Quella autorizzazione Comunale Lo dico ai signori Che tanto Si sono esercitati Nel tirare fuori Visure camerali È già stata concessa Da questo comune È stata concessa Nel 2011 In maniera del tutto Legittima Ed è stata concessa Ad una società Nella quale Io Non ho nessun interesse È la Malfitana Gas Non è Una mia azienda Quindi Da questo punto di vista Stiano tranquilli Stiano tranquilli I miei detrattori Io lavorerò Così come ho lavorato Fino adesso Per questo territorio Per questo paese Per le mie aziende Per i miei dipendenti Ma ci lavorerò In maniera pulita Trasparente Non ho bisogno Di avere concessioni Anche perché Le mie aziende Lavorano In centinaia Di comuni Dovrei essere Il sindaco Del comune di Capaccio Del comune di Agropoli Del comune di Montecordino O del comune di Battipaglia Scusate che mi sono infervorato Ma la cosa ha dato Non poco fastidio E riconosco Pubblicamente Che né l'amico Fabio Né l'amico Renato Hanno avuto Il buon gusto Di non Approfittare Di questa Di questa falsità Era doveroso Fare un chiarimento Soprattutto a voi Dicevo Mi fanno segno Che mancano cinque minuti Dicevo prima Non andiamo a ricercare I colpevoli Non ci interessano Sono altri Altri che lo devono fare Altri a volte Se ne Se ne incaricano In maniera Non Non specifica Noi vogliamo capire I perché E perché E a questi perché Porre rimedio Io credo Che uno dei perché Che spieghi L'inefficienza Della nostra macchina Amministrativa Non sta Nel fatto che Come pure è vero Abbiamo Meno della metà Dei dipendenti comunali Stabiliti in pianta organica E un grazie va soprattutto a loro Ma sta soprattutto nel fatto Che nel corso di questi anni Il nostro comune È stato fatto a pezzi Noi non eroghiamo più Nessun servizio O quasi Abbiamo esternalizzato Cioè abbiamo preso Alcune funzioni Alcuni servizi Scusate E li abbiamo fatti E li abbiamo dati Ad altri Molte volte Questi altri Appartengono a territori Che non sono i nostri Io non voglio fare Del protezionismo Lungi da me l'idea Però Le risorse In questo territorio Ci sono Valorizziamole Facciamole lavorare Abbiamo fatto un PUC E ci siamo inventati Tecnici esterni Come se noi Non avessimo avuto Architetti Ingegneri Geometri E li abbiamo dati Ad altri Ci siamo inventati Una società Di riscossione E di accertamento Dei tributi E li abbiamo dati Ad altri Anche qui Per carità di patria Non parlo Della sogget Così come non parlo Delle scuole Così come non parlo Così come non parlo Del fatto Che il nostro comune 34 Km quadrati Di superficie 84 km Di strade Comunali 6500 e forse qualcosa In più di abitanti L'82% Di raccolta Differenziata Tutti i numeri Però i numeri Vanno detti tutti E uno di questi È che nel nostro comune Che ha queste caratteristiche Attualmente Oggi 23 maggio 2014 Non ha Una struttura Sportiva Pubblica Utilizzabile Dicevo la credibilità E la ricerca Delle responsabilità Questo comune Non l'ho chiuso io Il contratto Di locazione Non l'ho firmato io Io vorrei Riaprirlo E vorrei Riaprirlo Riattivandola Quella sirena Che segnava Le ore Rifacendo Funzionare L'orologio Della torre Campanaria E siccome Non è momento Di divisioni Questa cerimonia Io La voglio fare Insieme a Renato E a Fabio Non so i tempi Per Che serviranno Qua andiamo nel Nel mare magno Dei finanziamenti Che stanziati Erogati Ci rinuncio Una cosa è certa E questo ve lo garantisco E lo dico pubblicamente Se E siccome la promessa è seria Il se è doveroso Il quando vinceremo Quello era propagandistico Ma se vinceremo Proprio perché la promessa è seria Noi lasceremo Gli attuali uffici comunali Entro il 30 settembre 2014 L'appello finale al voto Noi ci abbiamo messo Faccia, testa, cuore, voglia Proposte Non bastano Serve il vostro voto Ma serve soprattutto Il vostro coraggio Perché se voi non avete Il coraggio di cambiarla Albanella Noi possiamo lanciare solo Degli slogan O delle proposte Ma la voglia di cambiare Sapendo di essere Coerenti nelle scelte Deve venire da voi E' da voi che vogliamo Il coraggio Siamo Albanella Grazie 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 a tutti.